Me ne hanno parlato sette anni fa, in una missione in Brasile, per catturare un ricercato in fuga. Ha fatto fuori la nostra unità in pochi secondi. L'obiettivo ha abilità sovrumane. È stato scelto. Storicamente, diverse culture da tutto il mondo. Raccontano di un grande torneo. Il destino della Terra è nelle nostre mani. Get over here!